Stufo di dover passare ogni giorno l'aspirapolvere e pulire i pavimenti? Ogni giorno sempre le stesse faccende domestiche. Gli aspirapolvere sono anche rumorosi e pesanti e la ventola diffonde di nuovo la polvere attraverso l'appartamento. Quei giorni sono finiti. Vi presentiamo Dust Master. D'ora in poi questo rivoluzionario robot di pulizia completamente automatizzato ti libererà da questo lavoro noioso che richiede un sacco di tempo. È facile da usare. Basta attaccare il panno blu in microfibra che forniamo alla chiusura velcro. Premi il pulsante di avvio e rilassati guardando il Dust Master fare tutto il lavoro. Con il suo speciale tergivetro con regolazione dell'altezza, Dust Master pulisce facilmente tutte le superfici del pavimento. Non importa se si tratta di laminato, parquet, PVC, pietra o piastrelle. Niente è un problema per Dust Master. Il tuo appartamento è pulito in un attimo e puoi usare il tempo che hai risparmiato per le cose veramente importanti della vita, grazie al fantastico Dust Master. Quindi il Dust Master pulirà tutti i miei piani, che si tratti di laminato, PVC, parquet, pietra o piastrelle. Precisamente, compreso il bagno e se incontra un ostacolo cambia solo direzione. Se si scontra con mobili o con il battiscopa, registra ciò e procede alla pulizia in una direzione diversa. Sì, è assolutamente fantastico! Ed è così preciso che anche se batterà su un vaso, non lo mette giù. Questo è quello che chiamo high-tech. Le speciali ruote soft-touch non comportano più graffi sul costoso parquet, a differenza degli aspirapolvere convenzionali. Dust Master, il rivoluzionario robot per la pulizia, completamente automatizzato, grazie alla speciale piastra del tergicristallo, regolabile in altezza, Dust Master pulisce facilmente tutte le superfici del pavimento. Quindi il tuo appartamento è pulito in un attimo e puoi usare il tempo che hai risparmiato per le cose veramente importanti della vita, grazie al fantastico Dust Master. The Dust Master è alto meno di 8 cm e si adatta facilmente non solo sotto tavoli, sedie, armadi e cassettiere, ma va anche dove nessun altro aspirapolvere al mondo è in grado di andare, cioè sotto il letto. Questo è particolarmente importante, perché è lì che si annida la polvere, orribile e sgradevole. Oddio! E sai, quando dormi ispiri queste particelle microscopicamente minuscole che non fanno affatto bene alla respirazione. Sì, è per questo che il Dust Master non è solo pratico e salva tempo, ma migliora anche significativamente la qualità dell'aria con il suo panno antistatico bianco. Sì! Ideale per camere per bambini e tutte le camere da letto e particolarmente raccomandabile per chi soffre di allergie alla polvere domestica. Stufo di dover passare ogni giorno l'aspirapolvere e pulire i pavimenti? Ogni giorno sempre le stesse faccende domestiche. Gli aspirapolvere sono anche rumorosi e pesanti e la ventola diffonde di nuovo la polvere attraverso l'appartamento. Quei giorni sono finiti! Vi presentiamo Dust Master, il rivoluzionario robot di pulizia completamente automatizzato. Basta premere il pulsante di accensione e Dust Master si mette subito al lavoro. Se il Dust Master incontra un ostacolo, nessun problema! Si gira e continua a pulire in una direzione diversa. Quindi il tuo appartamento è pulito in pochissimo tempo. Grazie al suo design compatto e all'altezza ridotta di solo gli 8 cm, Dust Master non si limita a raggiungere sotto i comò e i divani, ma anche sotto armadietti bassi e letti, dove le scope e le aspirapolveri non riescono a raggiungere. Ecco perché è ideale anche per le camere dei bambini e le camere da letto. Ed è altamente raccomandato per tutti coloro che soffrono di allergie alla polvere. È facile da usare. Basta attaccare il panno blu in microfibra che forniamo alla chiusura velcro. Premi il pulsante di avvio e... Rilassati guardando il Dust Master fare tutto il lavoro! Quando il Dust Master ha finito il suo lavoro, basta mettere il panno in microfibra nella lavatrice e prima che tu te ne renda conto, è di nuovo pronto per l'uso. E per quanto riguarda i peli di animali e le polveri fini, usa il panno antistatico bianco. Grazie alla sua carica elettrostatica, attrae lo sporco quasi magneticamente. Quindi il tuo appartamento è pulito in un attimo e puoi usare il tempo che hai risparmiato per le cose veramente importanti della vita. Ordina subito il rivoluzionario Dust Master con il panno in microfibra blu per lo sporco ostinato al fantastico prezzo di lancio che vedi sullo schermo. E se chiami ora e ordini subito, otterrai l'intero set di 10 panni antistatici bianchi inclusi nel prezzo. Ma aspetta! Se ordini nei prossimi 10 minuti, ti regaleremo anche altri 10 panni antistatici bianchi compresi nel prezzo. In questo modo si risparmiano più di 20 euro. Sì, hai sentito bene! Per il completo sistema di pulizia Dust Master paghi solo il prezzo piccolo che vedi in tv. Chiamaci ora e ordina subito il Dust Master. Non dimenticare di chiedere al tuo operatore l'indispensabile set di miglioramento Dust Master con due altri panni microfibra blu e 20 panni antistatici bianchi. Chiamaci e ordina subito il fantastico sistema di pulizia Dust Master. Ne vale la pena! Quindi il Dust Master pulirà tutti i miei piani, che si tratti di laminato, PVC, parchè, pietra o piastrelle. Precisamente, compreso il bagno e si incontra un ostacolo, cambia solo direzione. Precisamente, compreso il bagno e si incontra un ostacolo, cambia solo direzione. Se si scontra con mobili o con il battiscopa, registra ciò e procede alla pulizia in una direzione diversa. Sì, è assolutamente fantastico! Ed è così preciso che anche se batterà su un vaso non lo mette giù. Questo è quello che chiamo high-tech. Le speciali ruote soft-touch non comportano più graffi sul costoso perché, a differenza degli aspirapolvere convenzionali. Dust Master, il rivoluzionario robot per la pulizia, completamente automatizzato, grazie alla speciale piastra del tergicristallo regolabile in altezza, Dust Master pulisce facilmente tutte le superfici del pavimento. Quindi il tuo appartamento è pulito in un attimo e puoi usare il tempo che hai risparmiato per le cose veramente importanti della vita. Grazie al fantastico Dust Master! E sul retro abbiamo una piastra speciale per mop dove il tessuto antistatico è tenuto in posizione con clip in velcro. Sì, proprio così! Grazie alla piastra di regolazione dell'altezza regolabile, il Dust Master può spostarsi senza sporzo dal laminato al parquet e viceversa. La polvere e la lanugine si attaccano semplicemente al panno antistatico. Non fa alcuna differenza! Se i pavimenti sono fatti di parquet, laminato, PVC, pietra o piastrelle, il Dust Master prende queste differenze di altezza nel suo passo. Ogni piano? Sì, ora! E grazie a questo tessuto antistatico bianco è come se l'intera casa si pulisse da sola. Ho capito bene! Quando vado al lavoro la mattina, accendo il Dust Master e quando torno a casa la sera tutta la casa è pulita e splendente? Eh sì, ora capisci! Dust Master, il rivoluzionario robot per la pulizia, completamente automatizzato, grazie alla speciale piastra del tergicristallo regolabile in altezza, Dust Master pulisce facilmente tutte le superfici del pavimento. Quindi il tuo appartamento è pulito in un attimo e puoi usare il tempo che hai risparmiato per le cose veramente importanti della vita, grazie al fantastico Dust Master. Il Dust Master è un detergente per pavimenti completamente automatico. Sì! Grazie al suo design compatto, Dust Master raggiunge facilmente ogni angolo e pulisce sottotavoli, armadi e persino dove nessun altro aspirapolvere al mondo è in grado di andare, vale a dire sotto i letti. Giusto! Ed è così facile da usare. Per le macchie più tenaci o per i capelli o peli di animali, allego semplicemente il panno in microfibra blu alle apposite clip in velcro della piastra. Sì! E per la polvere e la peluria uso il panno antistatico bianco. Assolutamente corretto! E ora ho solo bisogno di premere il pulsante di avvio e il Dust Master pulisce tutti i miei pavimenti, sia laminati, PVC, parchi, pietra o piastrelle. Li pulisce perfettamente! Basta attaccare il panno blu in microfibra che forniamo alla chiusura velcro. Premi il pulsante di avvio e... rilassati guardando il Dust Master fare tutto il lavoro! Quando il Dust Master ha finito il suo lavoro, basta mettere il panno in microfibra nella lavatrice e prima che tu te ne renda conto, è di nuovo pronto per l'uso. E per quanto riguarda i peli di animali e le polveri fini, usa il panno antistatico bianco. Grazie alla sua carica elettrostatica, attrae lo sporco quasi magneticamente. Quindi il tuo appartamento è pulito in un attimo e puoi usare il tempo che hai risparmiato per le cose veramente importanti della vita. Ordina subito il rivoluzionario Dust Master con il panno in microfibra blu per lo sporco ostinato al fantastico prezzo di lancio che vedi sullo schermo. E se chiami ora e ordini subito, otterrai l'intero set di 10 panni antistatici bianchi inclusi nel prezzo. Ma aspetta! Se ordini nei prossimi 10 minuti, ti regaleremo anche altri 10 panni antistatici bianchi compresi nel prezzo. In questo modo si risparmiano più di 20 euro. Sì, hai sentito bene. Per il completo sistema di pulizia Dust Master paghi solo il prezzo piccolo che vedi in tv. Chiamaci ora e ordina subito il Dust Master. Non dimenticare di chiedere al tuo operatore l'indispensabile set di miglioramento Dust Master con due altri panni in microfibra blu e i 20 panni antistatici bianchi. Chiamaci e ordina subito il fantastico sistema di pulizia Dust Master. Ne vale la pena! Stufo di dover passare ogni giorno l'aspirapolvere e pulire i pavimenti? Ogni giorno sempre le stesse faccende domestiche. Gli aspirapolvere sono anche rumorosi e pesanti e la ventola diffonde di nuovo la polvere attraverso l'appartamento. Quei giorni sono finiti. Vi presentiamo Dust Master. D'ora in poi questo rivoluzionario robot di pulizia completamente automatizzato ti libererà da questo lavoro noioso che richiede un sacco di tempo. È facile da usare. Basta attaccare il panno blu in microfibra che forniamo alla chiusura velcro. Premi il pulsante di avvio e rilassati guardando il Dust Master fare tutto il lavoro. Con il suo speciale tergivetro con regolazione dell'altezza, Dust Master pulisce facilmente tutte le superfici del pavimento. Non importa se si tratta di laminato, parquet, pvc, pietra o piastrelle. Niente è un problema per Dust Master. Il tuo appartamento è pulito in un attimo e puoi usare il tempo che hai risparmiato per le cose veramente importanti della vita. Grazie al fantastico Dust Master. Quindi il Dust Master pulirà tutti i miei piani. Che si tratti di laminato, pvc, parquet, pietra o piastrelle. Precisamente compreso il bagno e se incontra un ostacolo cambia solo direzione. Se si scontra con mobili o con il battiscopa, registra ciò e procede alla pulizia in una direzione diversa. Sì, è assolutamente fantastico! Ed è così preciso che anche se batterà su un vaso, non lo mette giù. Questo è quello che chiamo high-tech. Le speciali ruote soft-touch non comportano più graffi sul costoso parquet, a differenza degli aspirapolvere convenzionali. Dust Master, il rivoluzionario robot per la pulizia, completamente automatizzato, grazie alla speciale piastra del tergicristallo, regolabile in altezza. Dust Master pulisce facilmente tutte le superfici del pavimento. Quindi il tuo appartamento è pulito in un attimo e puoi usare il tempo che hai risparmiato per le cose veramente importanti della vita, grazie al fantastico Dust Master. The Dust Master è alto meno di 8 cm e si adatta facilmente non solo sotto tavoli, sedie, armadi e cassettiere, ma va anche dove nessun altro aspirapolvere al mondo è in grado di andare, cioè sotto il letto. Questo è particolarmente importante, perché è lì che si annida la polvere, orribile e sgradevole. Oddio! E sai, quando dormi ispiri queste particelle microscopicamente minuscole che non fanno affatto bene alla respirazione. Sì, è per questo che il Dust Master non è solo pratico e salva tempo, ma migliora anche significativamente la qualità dell'aria con il suo panno antistatico bianco. Sì! Ideale per camere per bambini e tutte le camere da letto e particolarmente raccomandabile per chi soffre di allergie alla polvere domestica. Stufo di dover passare ogni giorno l'aspirapolvere e pulire i pavimenti? Ogni giorno sempre le stesse facciende domestiche. Gli aspirapolvere sono anche rumorosi e pesanti e la ventola diffonde di nuovo la polvere attraverso l'appartamento. Quei giorni sono finiti! Vi presentiamo Dust Master, il rivoluzionario robot di pulizia completamente automatizzato. Basta premere il pulsante di accensione e Dust Master si mette subito al lavoro. Se il Dust Master incontra un ostacolo, nessun problema. Si gira e continua a pulire in una direzione diversa. Quindi il tuo appartamento è pulito in pochissimo tempo. Grazie al suo design compatto e all'altezza ridotta di solo gli 8 cm, Dust Master non si limita a raggiungere sotto i comò e i divani, ma anche sotto armadietti bassi e letti, dove le scope e le aspirapolveri non riescono a raggiungere. Ecco perché è ideale anche per le camere dei bambini e le camere da letto. Ed è altamente raccomandato per tutti coloro che soffrono di allergie alla polvere. È facile da usare. Basta attaccare il panno blu in microfibra che forniamo alla chiusura velcro. Premi il pulsante di avvio e rilassati guardando il Dust Master fare tutto il lavoro. Quando il Dust Master ha finito il suo lavoro, basta mettere il panno in microfibra nella lavatrice e prima che tu te ne renda conto, è di nuovo pronto per l'uso. E per quanto riguarda i peli di animali e le polveri fini, usa il panno antistatico bianco. Grazie alla sua carica elettrostatica, attrae lo sporco quasi magneticamente. Quindi il tuo appartamento è pulito in un attimo e puoi usare il tempo che hai risparmiato per le cose veramente importanti della vita. Ordina subito il rivoluzionario Dust Master con il panno in microfibra blu per lo sporco ostinato al fantastico prezzo di lancio che vedi sullo schermo. E se chiami ora e ordini subito, otterrai l'intero set di 10 panni antistatici bianchi inclusi nel prezzo. Ma aspetta! Se ordini nei prossimi 10 minuti, ti regaleremo anche altri 10 panni antistatici bianchi compresi nel prezzo. In questo modo si risparmiano più di 20 euro. Sì, hai sentito bene! Per il completo sistema di pulizia Dust Master paghi solo il prezzo piccolo che vedi in tv. Chiamaci ora e ordina subito il Dust Master. Non dimenticare di chiedere al tuo operatore l'indispensabile set di miglioramento Dust Master con due altri panni microfibra blu e 20 panni antistatici bianchi. Chiamaci e ordina subito il fantastico sistema di pulizia Dust Master. Ne vale la pena! Quindi il Dust Master pulirà tutti i miei piani, che si tratti di laminato, PVC, parchè, pietra o piastrelle. Precisamente, compreso il bagno e si incontra un ostacolo, cambia solo direzione. Precisamente, compreso il bagno e si incontra un ostacolo, cambia solo direzione. Se si scontra con mobili o con il battiscopa, registra ciò e procede alla pulizia in una direzione diversa. Sì, è assolutamente fantastico! Ed è così preciso che anche se batterà su un vaso non lo mette giù. Questo è quello che chiamo high-tech. Le speciali ruote soft-touch non comportano più graffi sul costoso perché, a differenza degli aspirapolvere convenzionali. Dust Master, il rivoluzionario robot per la pulizia, completamente automatizzato, grazie alla speciale piastra del tergicristallo regolabile in altezza, Dust Master pulisce facilmente tutte le superfici del pavimento. Quindi il tuo appartamento è pulito in un attimo e puoi usare il tempo che hai risparmiato per le cose veramente importanti della vita, grazie al fantastico Dust Master! E sul retro abbiamo una piastra speciale per mop, dove il tessuto antistatico è tenuto in posizione con clip in velcro. Sì, proprio così! Grazie alla piastra di regolazione dell'altezza regolabile, il Dust Master può spostarsi senza sporzo dal laminato al parquet e viceversa. La polvere e la lanugine si attaccano semplicemente al panno antistatico. Non fa alcuna differenza! Se i pavimenti sono fatti di parquet, laminato, PVC, pietre o piastrelle, il Dust Master prende queste differenze di altezza nel suo passo. Ogni piano? Sì, ora! E grazie a questo tessuto antistatico bianco è come se l'intera casa si pulisse da sola. Ho capito bene! Quando vado al lavoro la mattina, accendo il Dust Master e quando torno a casa la sera tutta la casa è pulita e splendente? Eh sì, ora capisci! Dust Master, il rivoluzionario robot per la pulizia, completamente automatizzato, grazie alla speciale piastra del tergicristallo regolabile in altezza, Dust Master pulisce facilmente tutte le superfici del pavimento. Quindi il tuo appartamento è pulito in un attimo e puoi usare il tempo che hai risparmiato per le cose veramente importanti della vita, grazie al fantastico Dust Master. Il Dust Master è un detergente per pavimenti completamente automatico. Sì! Grazie al suo design compatto, Dust Master raggiunge facilmente ogni angolo e pulisce sottotavoli, armadi e persino dove nessun altro aspirapolvere al mondo è in grado di andare, vale a dire sotto i letti. Giusto! Ed è così facile da usare. Per le macchie più tenaci o per i capelli o peli di animali, allego semplicemente il panno in microfibra blu alle apposite clip in velcro della piastra. Sì! E per la polvere e la peluria uso il panno antistatico bianco. Assolutamente corretto! E ora ho solo bisogno di premere il pulsante di avvio e il Dust Master pulisce tutti i miei pavimenti, sia laminati, PVC, parchi, pietra o piastrelle. Li pulisce perfettamente! Basta attaccare il panno blu in microfibra che forniamo alla chiusura velcro. Premi il pulsante di avvio e... rilassati guardando il Dust Master fare tutto il lavoro! Quando il Dust Master ha finito il suo lavoro, basta mettere il panno in microfibra nella lavatrice e prima che tu te ne renda conto, è di nuovo pronto per l'uso. E per quanto riguarda i peli di animali e le polveri fini, usa il panno antistatico bianco. Grazie alla sua carica elettrostatica, attrae lo sporco quasi magneticamente. Quindi il tuo appartamento è pulito in un attimo e puoi usare il tempo che hai risparmiato per le cose veramente importanti della vita. Ordina subito il rivoluzionario Dust Master con il panno in microfibra blu per lo sporco ostinato al fantastico prezzo di lancio che vedi sullo schermo. E se chiami ora e ordini subito, otterrai l'intero set di 10 panni antistatici bianchi inclusi nel prezzo. Ma aspetta! Se ordini nei prossimi 10 minuti, ti regaleremo anche altri 10 panni antistatici bianchi compresi nel prezzo. In questo modo si risparmiano più di 20 euro. Sì, hai sentito bene. Per il completo sistema di pulizia Dust Master paghi solo il prezzo piccolo che vedi in tv. Chiamaci ora e ordina subito il Dust Master. Non dimenticare di chiedere al tuo operatore l'indispensabile set di miglioramento Dust Master con due altri panni in microfibra blu e 20 panni antistatici bianchi. Chiamaci e ordina subito il fantastico sistema di pulizia Dust Master. Ne vale la pena! Stufo di dover passare ogni giorno l'aspirapolvere e pulire i pavimenti? Ogni giorno sempre le stesse faccende domestiche. Gli aspirapolvere sono anche rumorosi e pesanti e la ventola diffonde di nuovo la polvere attraverso l'appartamento. Quei giorni sono finiti. Vi presentiamo Dust Master. D'ora in poi questo rivoluzionario robot di pulizia completamente automatizzato ti libererà da questo lavoro noioso che richiede un sacco di tempo. È facile da usare. Basta attaccare il panno blu in microfibra che forniamo alla chiusura velcro. Premi il pulsante di avvio e rilassati guardando il Dust Master fare tutto il lavoro. Con il suo speciale tergivetro con regolazione dell'altezza, Dust Master pulisce facilmente tutte le superfici del pavimento. Non importa se si tratta di laminato, parquet, pvc, pietra o piastrelle. Niente è un problema per Dust Master. Il tuo appartamento è pulito in un attimo e puoi usare il tempo che hai risparmiato per le cose veramente importanti della vita. Grazie al fantastico Dust Master. Quindi il Dust Master pulirà tutti i miei piani. Che si tratti di laminato, pvc, parquet, pietra o piastrelle. Precisamente compreso il bagno. E se incontra un ostacolo cambia solo direzione. Se si scontra con mobili o con il battiscopa, registra ciò e procede alla pulizia in una direzione diversa. Sì, è assolutamente fantastico. Ed è così preciso che anche se batterà su un vaso, non lo mette giù. Questo è quello che chiamo high-tech. Le speciali ruote soft touch non comportano più graffi sul costoso parquet, a differenza degli aspirapolvere convenzionali. Dust Master, il rivoluzionario robot per la pulizia, completamente automatizzato, grazie alla speciale piastra del tergicristallo, regolabile in altezza. Dust Master pulisce facilmente tutte le superfici del pavimento. Quindi il tuo appartamento è pulito in un attimo e puoi usare il tempo che hai risparmiato per le cose veramente importanti della vita, grazie al fantastico Dust Master. The Dust Master è alto meno di 8 cm e si adatta facilmente non solo sotto tavoli, sedie, armadi e cassettiere, ma va anche dove nessun altro aspirapolvere al mondo è in grado di andare, cioè sotto il letto. Questo è particolarmente importante, perché è lì che si annida la polvere, orribile e sgradevole. Oddio! E sai, quando dormi ispiri queste particelle microscopicamente minuscole che non fanno affatto bene alla respirazione. Sì, è per questo che il Dust Master non è solo pratico e salva tempo, ma migliora anche significativamente la qualità dell'aria con il suo panno antistatico bianco. Sì! Ideale per camere per bambini e tutte le camere da letto e particolarmente raccomandabile per chi soffre di allergie alla polvere domestica. Stufo di dover passare ogni giorno l'aspirapolvere e pulire i pavimenti? Ogni giorno sempre le stesse faccende domestiche. Gli aspirapolvere sono anche rumorosi e pesanti e la ventola diffonde di nuovo la polvere attraverso l'appartamento. Quei giorni sono finiti! Vi presentiamo Dust Master, il rivoluzionario robot di pulizia completamente automatizzato. Basta premere il pulsante di accensione e Dust Master si mette subito al lavoro. Se il Dust Master incontra un ostacolo, nessun problema. Si gira e continua a pulire in una direzione diversa. Quindi il tuo appartamento è pulito in pochissimo tempo. Grazie al suo design compatto e all'altezza ridotta di solo gli 8 cm, Dust Master non si limita a raggiungere sotto i comò e i divani, ma anche sotto armadietti bassi e letti, dove le scope e le aspirapolveri non riescono a raggiungere. Ecco perché è ideale anche per le camere dei bambini e le camere da letto. Ed è altamente raccomandato per tutti coloro che soffrono di allergie alla polvere. È facile da usare. Basta attaccare il panno blu in microfibra che forniamo alla chiusura velcro. Premi il pulsante di avvio e rilassati guardando il Dust Master fare tutto il lavoro. Quando il Dust Master ha finito il suo lavoro, basta mettere il panno in microfibra nella lavatrice e prima che tu te ne renda conto, è di nuovo pronto per l'uso. E per quanto riguarda i peli di animali e le polveri fini, usa il panno antistatico bianco. Grazie alla sua carica elettrostatica, attrae lo sporco quasi magneticamente. Quindi il tuo appartamento è pulito in un attimo e puoi usare il tempo che hai risparmiato per le cose veramente importanti della vita. Ordina subito il rivoluzionario Dust Master con il panno in microfibra blu per lo sporco ostinato al fantastico prezzo di lancio che vedi sullo schermo. E se chiami ora e ordini subito, otterrai l'intero set di 10 panni antistatici bianchi inclusi nel prezzo. Ma aspetta! Se ordini nei prossimi 10 minuti, ti regaleremo anche altri 10 panni antistatici bianchi compresi nel prezzo. In questo modo si risparmiano più di 20 euro. Sì, hai sentito bene! Per il completo sistema di pulizia Dust Master paghi solo il prezzo piccolo che vedi in tv. Chiamaci ora e ordina subito il Dust Master. Non dimenticare di chiedere al tuo operatore l'indispensabile set di miglioramento Dust Master con due altri panni microfibra blu e 20 panni antistatici bianchi. Chiamaci e ordina subito il fantastico sistema di pulizia Dust Master. Ne vale la pena! Quindi il Dust Master pulirà tutti i miei piani, che si tratti di laminato, PVC, parchè, pietra o piastrelle. Precisamente, compreso il bagno e si incontra un ostacolo, cambia solo direzione. Precisamente, compreso il bagno e si incontra un ostacolo, cambia solo direzione. Se si scontra con mobili o con il battiscopa, registra ciò e procede alla pulizia in una direzione diversa. Sì, è assolutamente fantastico! Ed è così preciso che anche se batterà su un vaso non lo mette giù. Questo è quello che chiamo high-tech. Le speciali ruote soft-touch non comportano più graffi sul costoso perché, a differenza degli aspirapolvere convenzionali. Dust Master, il rivoluzionario robot per la pulizia, completamente automatizzato, grazie alla speciale piastra del tergicristallo regolabile in altezza, Dust Master pulisce facilmente tutte le superfici del pavimento. Quindi il tuo appartamento è pulito in un attimo e puoi usare il tempo che hai risparmiato per le cose veramente importanti della vita, grazie al fantastico Dust Master! E sul retro abbiamo una piastra speciale per mop, dove il tessuto antistatico è tenuto in posizione con clip in velcro. Sì, proprio così! Grazie alla piastra di regolazione dell'altezza regolabile, il Dust Master può spostarsi senza sporzo dal laminato al parquet e viceversa. La polvere e la lanugine si attaccano semplicemente al panno antistatico. Non fa alcuna differenza! Se i pavimenti sono fatti di parquet, laminato, PVC, pietre o piastrelle, il Dust Master prende queste differenze di altezza nel suo passo. Ogni piano? Sì, ora! E grazie a questo tessuto antistatico bianco è come se l'intera casa si pulisse da sola. Ho capito bene! Quando vado al lavoro la mattina, accendo il Dust Master e quando torno a casa la sera tutta la casa è pulita e splendente? Eh sì, ora capisci! Dust Master, il rivoluzionario robot per la pulizia, completamente automatizzato, grazie alla speciale piastra del tergicristallo regolabile in altezza, Dust Master pulisce facilmente tutte le superfici del pavimento. Quindi il tuo appartamento è pulito in un attimo e puoi usare il tempo che hai risparmiato per le cose veramente importanti della vita, grazie al fantastico Dust Master. Il Dust Master è un detergente per pavimenti completamente automatico. Sì! Grazie al suo design compatto, Dust Master raggiunge facilmente ogni angolo e pulisce sottotavoli, armadi e persino dove nessun altro aspirapolvere al mondo è in grado di andare, vale a dire sotto i letti. Giusto! Ed è così facile da usare. Per le macchie più tenaci o per i capelli o peli di animali, allego semplicemente il panno in microfibra blu alle apposite clip in velcro della piastra. Sì! E per la polvere e la peluria uso il panno antistatico bianco. Assolutamente corretto! E ora ho solo bisogno di premere il pulsante di avvio e il Dust Master pulisce tutti i miei pavimenti, sia laminati, PVC, parchi, pietra o piastrelle. Li pulisce perfettamente! Basta attaccare il panno blu in microfibra che forniamo alla chiusura velcro. Premi il pulsante di avvio e... rilassati guardando il Dust Master fare tutto il lavoro! Quando il Dust Master ha finito il suo lavoro, basta mettere il panno in microfibra nella lavatrice e prima che tu te ne renda conto, è di nuovo pronto per l'uso. E per quanto riguarda i peli di animali e le polveri fini, usa il panno antistatico bianco. Grazie alla sua carica elettrostatica, attrae lo sporco quasi magneticamente. Quindi il tuo appartamento è pulito in un attimo e puoi usare il tempo che hai risparmiato per le cose veramente importanti della vita. Ordina subito il rivoluzionario Dust Master con il panno in microfibra blu per lo sporco ostinato al fantastico prezzo di lancio che vedi sullo schermo. E se chiami ora e ordini subito, otterrai l'intero set di 10 panni antistatici bianchi inclusi nel prezzo. Ma aspetta! Se ordini nei prossimi 10 minuti, ti regaleremo anche altri 10 panni antistatici bianchi compresi nel prezzo. In questo modo si risparmiano più di 20 euro. Sì, hai sentito bene. Per il completo sistema di pulizia Dust Master paghi solo il prezzo piccolo che vedi in tv. Chiamaci ora e ordina subito il Dust Master. Non dimenticare di chiedere al tuo operatore l'indispensabile set di miglioramento Dust Master con due altri panni in microfibra blu e 20 panni antistatici bianchi. Chiamaci e ordina subito il fantastico sistema di pulizia Dust Master. Ne vale la pena! Grazie! Grazie!